Ciao da Apsim, perché adesso state tutti improvvisamente parlando di VAR Challenge? Che cosa esattamente volete fare? Cioè state fermi, non rovinate tutto, già ci vedono come ridicoli all'estero, non rendiamoci ancora più ridicoli come calcio italiano. Perché davvero io credo che si sia veramente andando avanti sull'onda dell'indignazione, non c'è un ragionamento, non c'è una programmazione ragionata nel calcio italiano. Si va avanti per calmare le acque delle polemiche e per alimentare poi altre polemiche da calmare. Cioè è questo il controllo che si fa della situazione, non è una questione di mettersi lì a studiare quelle che possono essere le regole che effettivamente possono migliorare il calcio italiano. Allora, la FIGC col presidente Gabriele Gravina ha emesso questo comunicato dicendo di aver proposto informalmente all'IFAB, che è il panel, il board che si occupa di stabilire le regole a livello del calcio mondiale, comprese quelle della VAR, di aver proposto quindi l'introduzione del VAR Challenge. Cioè il VAR ha chiamata, cioè gli allenatori o magari i capitani per due volte a partita ipoteticamente possono dire all'arbitro vai all'on field review, vai a rivedere le immagini perché su questo episodio noi non siamo convinti. Per evitare situazioni in cui l'arbitro si convince di aver fatto bene, non vuole andare a verificare se ha sbagliato o meno e si verificano quindi errori arbitrali non corretti sul campo. Bene. Ma stiamo sull'onda dell'isterismo ancora, ripeto, perché ci sono gli episodi arbitrali, ci sono degli errori presunti, errori arbitrali, perché poi non si fa mai abbastanza chiarezza. Rizzoli parla ma poi viene strumentalizzato, forse non parla chiaro, forse non parla abbastanza e quindi si va avanti settimana dopo settimana, polemica dopo polemica, a dire che il VAR così non funziona. Ovviamente, ovviamente, per la gran parte del tempo e delle volte contro la Juventus, perché se è rigore per la Juve, anche se gli hanno tirato una mazza da baseball dietro la testa, non è comunque fallo ed è comunque un furto. Mentre dall'altra parte se un giocatore della Juve soffia una piuma sull'orecchio dell'avversario e calcio di rigore non dato clamoroso campionato falsato, però appunto in questo caso noi non riusciamo veramente a ragionare, a fare le cose per bene. Perché dico questo? Innanzitutto io sono contrario alla VAR Challenge, cioè sono proprio contrario, secondo me è una fesseria, però questa è una mia opinione personale. Cioè personalmente, per come intendo io il calcio e per come intendo il VAR, ma anche il lavoro dell'arbitro, sarebbe un eccesso, sarebbe un'esagerazione, perché si affiderebbe ancora di più all'isterismo, all'agonismo, come si dice, alla transagonistica del momento, una decisione che è fondamentale per l'economia della partita e quindi di tutto il torneo. Non si può affidare all'allenatore che è di parte, che è parte interessata, la scelta di costringere l'arbitro di andare a rivedere. Deve esserci qualcuno che saldi sopra e quindi tutto il sistema arbitrale, compresi il VAR e la VAR che stanno dietro ai monitor, e così deve funzionare, con il responsabile degli arbitri, i responsabili istituzionali che vanno a distruire gli arbitri settimana dopo settimana, mese dopo mese, quando si incontrano loro a Coverciano, non lo so su cosa fare, su come decidere, e così stiamo tutti tranquilli. Così dovrebbe funzionare, dovrebbe andare così. Quindi, invece, affidare questo strumento nelle mani di allenatore, capitano in campo, rischia veramente di snaturare tutto e di creare, secondo me, ulteriori problematiche. Perché poi è chiaro che è comunque l'arbitro a decidere, ma come fa l'arbitro ad essere, dico questo, come fa l'arbitro ad essere sereno nella decisione se è stato chiamato da Tizio piuttosto che da Caio, da un allenatore piuttosto che da un altro? Cioè, se a richiamare l'arbitro è il VAR nella cabina, l'arbitro dice, io rispetto te, collega, che mi hai detto di andare a rivedere, perché sei tu che mi dici di andare a rivedere e quindi io vengo a rivedere. Ma l'arbitro potrebbe anche indispettirsi nei confronti dell'allenatore, dice, ma tu che vuoi? Fai l'allenatore che io faccio l'arbitro. Cioè, capite? Non è una cosa... Poi parliamo di calcio, non parliamo di altri sport dove si tratta di vedere se il pallone è andato sulla riga oppure fuori dalla riga, se c'è stato meno contatto con la rete da pallavolo. È diverso. Parliamo di tutt'altro. Qui ci sono delle valutazioni che sono soggettive. Se il tocco di mani è punibile o no in area di rigore, se la spinta è tale da causare calcio di rigore o no, ma come fai? Come fai ad affidare tutto al momento, all'indignazione momentanea, all'impeto? Non si può. Ci vuole calma e ragionamento. Allora, questa mossa è una mossa politica della FIGC, di calmare le acque di alcuni club che sono in questo momento isterici appunto per la situazione arbitrale, per una serie di episodi. Come a dire, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, cioè di proporre all'IFAB di introdurre il VAR Challenge. Ma loro lo sanno bene che non succederà perché infatti la proposta è stata informale, non è stata una proposta formale. E nel meeting IFAB di fine febbraio non c'è all'ordine del giorno di parlare di VAR Challenge. Quindi è una cosa che è stata buttata lì soltanto per poter dire che si sta provando a migliorare la situazione. Ma prima di un anno, a quanto scrive Sky Sport, non se ne farà nulla. probabilmente se ne parlerà non prima della stagione 2021-2022 a vedere il VAR Challenge in Serie A, ma in generale nel calcio. Quindi di cosa stiamo parlando? Ci attacchiamo a delle ipotesi che sono totalmente fuori dalla realtà. Ma la cosa che mi è piaciuta di meno nel comunicato FIGC per bocca di Gabriele Gravina, presidente, è un'altra. E cioè adesso che entriamo nella fase cruciale della stagione, gli arbitri dovrebbero andare più spesso all'onfield review per evitare le polemiche. Ma cosa? Ma tu sei presidente dell'istituzione, delle polemiche dovresti fregartene o contro le polemiche. Dovresti agire. Dovresti agire contro i commisso che dicono che gli arbitri fanno i protagonisti nelle partite e decidono i risultati e li alterano. Dovresti agire. Cosa ti metti al di sotto delle polemiche? Cioè tu ti fai praticamente veicolare, ti fai scusatemi, condizionare dalle polemiche. Cioè quello che ti portano a fare le polemiche, quello fai. Invece di reagire, di rispondere, di fare veramente muro e di dire un attimo, state un attimo calmi, state calmi, perché il VAR sta funzionando bene. Oppure dici il VAR ha avuto dei problemi, ci sono dei difetti, ma li stiamo correggendo, siamo consapevoli. Cioè non puoi farti piegare, farti piegare dall'impeto di pochi che strumentalmente fanno questo tipo di polemiche. Cioè allora tu stai dando ragione alle polemiche, quindi le polemiche nel calcio vanno bene, le vogliamo alimentare ancora. Ora sì, facciamo decidere a questo punto direttamente agli allenatori, ma perché non facciamo il televoto da casa oppure dallo stadio? Chi grida più forte dalla curva ha il rigore a favore. Dai, siamo seri. Quindi questo è il motivo per cui io sono assolutamente contrario al VAR Challenge. Ma ripeto, all'estero ci prenderebbero ancora più per stupidi, perché se andate all'estero, se andate a vedere trasmissioni magari su BT Sport in Gran Bretagna oppure in America quando guardano il nostro calcio, si stupiscono di certe decisioni, del perché l'arbitro vada all'onfield review per degli episodi chiarissimi, si stupiscono delle polemiche, capite? Loro sono a un altro livello, sono in un altro mondo. Perché noi dobbiamo continuare a rimanere chiusi in questa bolla invece di farla scoppiare? Perché siamo veramente fuori dal mondo, eh? Siamo in un mondo del calcio, quello italiano, che è fuori dal mondo del calcio in generale. Siamo completamente da un'altra parte. Allora, non continuiamo a renderci ridicoli. Se all'estero il VAR Challenge non c'è, non è stato chi... Poi ovviamente in Inghilterra c'è grande avversione verso il VAR, perché tra l'altro è arrivato tardi, ci sono stati dei episodi, però piano piano sta prendendo piede, lo stanno pure loro accettando, ma d'altra parte gli inglesi sono quelli della Brexit, non è che ti puoi aspettare questa grande propensione, come dire, all'innovazione, questo grande progressismo. Però, comunque, non per questo dobbiamo andare a distruggere uno strumento che sta funzionando comunque bene e che potrebbe funzionare meglio, ma non certo affidandolo agli allenatori, non certo affidandolo alle parti in causa. Questo è quello che penso sul VAR Challenge, che non vedremo, per fortuna, di cui ha molto tempo, mettiamoci l'anima in pace, ditemi la vostra nei commenti. Grazie per l'attenzione, mettete like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, ci vediamo molto presto e sempre forza Juve! Grazie per l'attenzione,